il kit empire edu 120 mic e desk 135 è un sistema ideale per amplificare la vostra voce e l'audio in una sala meeting così come in un'aula scolastica finalmente la voce dell'insegnante o dell'oratore sarà perfettamente chiara e ben udibile da tutti il collegamento è semplicissimo collegate il microfono all'ingresso microfonico della cassa e regolate il volume come preferite contemporaneamente collegate un monitor touch screen di ultima generazione così come il vostro computer o tablet e regolate il volume e i toni come più vi piace voce e colonna sonora saranno esaltanti vediamo ora come utilizzare il kit per situazioni di didattica a distanza o conferenze da remoto infatti questo sistema non solo è stato progettato per l'amplificazione ma anche per poter interagire con persone o gruppi che si trovano in un'altra sede città o scuola con un semplice collegamento ed un programma di video call come ad esempio skype meet teams o zoom potrete conversare con chi è collegato da remoto difficile da collegare no il collegamento è molto semplice basta inserire il microfono nell'ingresso della scheda audio usb 135 in dotazione collegare la scheda ad una porta usb del vostro computer e collegare il cavo incluso dall'uscita della scheda audio alle casse tutto molto semplice e il risultato vi sorprenderà